Quest'oggi abbiamo presentato il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri 2024. È un prodotto che ripercorre la vita istituzionale dell'Arma dei Carabinieri attraverso 12 tavole realizzate dal designer Pininfarina e dalla tenna del giornalista e editorialista Massimo Gramellini intitolato il tema, il fil rouge, è i carabinieri e le comunità e descrive dei fatti di vita dell'Arma dei Carabinieri, dei fatti di vita e degli avvenimenti storici che hanno accompagnato la vita dell'Italia ed è un modo per raccontare l'Italia e per raccontare noi stessi. Il filo conduttore è la caratteristica della nostra istituzione che è la prossimità, la vicinanza ai cittadini e il ruolo importantissimo di rassicurazione sociale attraverso 12 racconti che spaziano da fatti di servizio a fatti storici come ad esempio il referendum del 1946, anche al cinema c'è un riferimento celebre film pane amore e fantasia e pane amore e nostalgia, a fatti di soccorso a seguito di calamità naturali e a storie di carabinieri che grazie alla capacità di ascolto e di dialogo con i cittadini hanno fornito un contributo concreto per aiutare le nostre comunità. Il prodotto rientra in un progetto editoriale che comprende anche un'agenda storica, un calendario da tavolo, un planning, tutte con temi diversi e con immagini che raffigurano i carabinieri nei borri in Italia, che parlano di delle attività prevalenti di controllo del territorio e che descrivono le nostre specialità, quali ad esempio quella della tutela patrimonio culturale che è descritto anche in una tavola dedicata del calendario storico e tante altre.